Ed eccoci anche con il chip leader degli italiani qui al D3, Gaetano Preite, quante ne hai? 305 Ottimo, l'everage è intorno ai 150, Gaetano come sta andando questo D3? Sta andando come me lo aspettavo, diciamo io sono arrivato con 200.000 Comunque sto partecipando per giocare, non per tenermi le fish in cassaforte Quindi ho giocato molti spot, sono salito, sono sceso e la crescita c'è stata Ho incrementato lo stack del 50% va bene, ho fatto un grande fold anche in questo secondo livello di giornata Secondo me è giusto e non mi lamento, dai Bene quindi, ti abbiamo visto anche a 350, adesso sei sceso un pochino Mancano altri tre livelli per oggi per arrivare poi al D4 Affronterai come al solito il tavolo hand for hand, ti adatterai al tuo stack, qual è la tua tecnica? Guarda, avrei intenzione di giocare un po' di mani su Chismi, Fildi e Miki Soprattutto Miki? Soprattutto Miki Al limite se non ce la faccio chiamo Tobi e Frodo Ivy Questa è la mia linea, speriamo che vada bene Sicuramente andrà benissimo, in bocca al lupo per questi ultimi tre livelli di oggi Ciao, poche fatto Soprattutto Miki Soprattutto Miki